Ben ritrovati amici del Tubo, mi trovo qui con Vito Lops, giornalista del Sole 24 Ore. Ciao Vito. Ciao Gianluca, è sempre un piacere. È un piacere mio un po' che non ci ritrovavamo qui sul mio canale. E allora ci eravamo lasciati in un momento di incertezza, nel senso avevamo tante incognite. Venivamo da un azionario in difficoltà, che tuttavia si stava riprendendo alla fine del 2022. Ci chiedevamo cosa sarebbe accaduto nel 2023. E c'erano quindi i tassi che erano in aumento. Gli utili societari c'erano grandi incognite, si parlava di recessione. L'inflazione c'era chi temeva che arrivasse, non so, al 15%. Poi abbiamo visto che in realtà l'inflazione comunque, almeno negli States, sta rallentando. Soprattutto l'inflation rate, anche se la corra è un po' più resiliente, ma di mese in mese tutto sta rallentando. La recessione non è mai arrivata. Gli utili sono stati migliori del previsto e l'S&P 500 e tanti altri indici, soprattutto il Nasdaq, hanno corso verso l'alto come se non ci fossero domani. Quindi tutti quei pericoli, quelli incognite, per ora sono state messe da parte o sconfessate. E quindi, insomma, voglio un attimo fare con te il punto della situazione, anche perché veniamo, paradossalmente, da un'inversione dei tassi di interesse, che è una delle più intense e lunghe della storia, ed è un dato che ha sempre, diciamo, andato ad anticipare delle grandi recessioni. Invece per ora non se ne vede l'ombra, cioè è tutto quanto molto strano. Cosa ne pensi? Che dati stai facendo di tutto quanto questo? Sì, Gianluca, allora è uno scenario veramente inesplorato, perché se consideriamo che le banche centrali e i governi, per via della pandemia, eccetera, hanno inondato di liquidità fiscale e monetaria l'economia e i mercati finanziari, in una modalità che non abbiamo mai assistito, la Fed ha praticamente raddoppiato il balance sheet da 4.000 a 8.000 miliardi fino a 9.000, insomma sappiamo questi grandi numeri, poi dopo si sono accorti che tutto ciò poteva creare inflazione e stanno cercando di drenare tutto ciò e evitare che si facciano danni e che l'inflazione diventa appiccicosa. Nel frattempo noi investitori, i mercati finanziari, ci siamo trovati a digerire questo contesto eccezionale, prima eccezionale nell'espansione, poi eccezionale nella restrizione. Però diciamo di mezzo c'è un'inflazione che in base alle aree economiche che vediamo sta andando in direzioni diverse, come tu ricordavi il processo di disinflazione negli Stati Uniti è bello che è avviato e anche ha le basi solide per continuare a scendere a mio avviso perché gli Stati Uniti sono riusciti a portare il tasso di interesse sopra il tasso di inflazione core che è quello che loro guardano principalmente il PCE. Quindi quando una banca centrale riesce a mettere il tasso di interesse, il costo del denaro sopra il tasso di inflazione core vuol dire che dal suo punto di vista gran parte del lavoro è stato fatto ed è per questo a mio avviso fondamentalmente che i mercati azionari, in particolare Wall Street in quest'ultima parte, in questi ultimi mesi, hanno ripreso a correre di gran lena perché appunto vedono una banca centrale che ha quasi completato se non completato il lavoro e allo stesso tempo vedono che l'inflazione sta scendendo. È vero che non siamo a quel 2%, però a questo punto lo scenario che nell'ultima volta che ci eravamo visti e avevamo un po' soprattutto io ipotizzato come miracoloso si sta un po' verificando o si starebbe verificando nell'idea degli investitori perché è appunto quello del soft landing cioè quello di questo atterraggio morbido, quindi alzare i tassi anche in modo violento senza però far andare l'economia a recessione. Ricordo che su 12 volte nella storia in cui dal dopoguerra la Federal Reserve ha alzato i tassi ha avviato un percorso di lotta all'inflazione, di strette monetarie, in 4 casi è riuscita a portare l'economia in soft landing quindi a raggiungere l'obiettivo senza passare dalla recessione. Nella maggior parte dei casi invece c'è stata recessione le incognite sono tante, però Wall Street a mio avviso sta scontando in modo totale senza timori di smentite lo scenario migliore c'è quello dell'atterraggio morbido e lo vediamo anche nelle previsioni sui utili perché se guardiamo per esempio gli utili per quanto riguarda le stime di Faxet ipotizza che nel secondo trimestre, quello che si sta per chiudere, gli utili cresceranno ma rallenteranno del 6,4%, quindi ci saranno utili, non perdite, ma in calo rispetto all'anno scorso del 6,4% però poi Q3 e Q4 vedranno un'inversione degli utili che torneranno a crescere year to date rispetto all'anno scorso 0,4% è molto sorprendente quando l'ho letto, più 8,4% nel quarto trimestre, quindi sostanzialmente i mercati stanno scontando, stanno correndo perché vedono un bottom degli utili, della discesa degli utili questo dobbiamo dirlo al di là di quelli che poi sono i rischi che sono sempre sul tavolo e il più grande rischio, se vuoi ne parliamo poi in un'altra, fra un po', è comunque il fatto che tassi così alti e per così tanto tempo comunque sono lì a distruggere tra virgolette la domanda e quindi poi quando magari la recessione se dovesse arrivare magari può arrivare all'improvviso però per ora i mercati nella loro logica dicono perché dobbiamo scontare in anticipo una recessione che non si vede neanche dal punto di vista degli utili certo, ovviamente ricordo a chi ci sta ascoltando che intendevi che i tassi sono superiori all'inflation core in prospettiva perché si è parlato di due rialzi ancora davanti a noi perché se lo andiamo a vedere è 5% mi sembra contro i 5,3-5,4 però poi dovrebbe arrivare a 5,6% mi sembra i tassi di interesse della Fed però se non vado errato il core del price expended, il PCE core, è già sotto il 5% se non vado errato sì, dipende quale tipo di inflazione vediamo diciamo una è proprio schiacciata perché l'inflation rate è ben al di sotto la core forse appena al di sopra ma con la prospettiva di altri due rialzi anche quella andrà sicuramente, cioè sicuramente, quasi sicuramente al di sotto quindi sì, anche quello era comunque un obiettivo iniziale e poi mi sto facendo un'idea che il mercato ovviamente guarda sempre molto male quelle che sono delle ambiguità, quelle delle certezze tuttavia mi sembra che questi dati contrastanti a livello economico perché da una parte vediamo tanta forza dall'altra si vede una volta segnali di debolezza magari soprattutto in prospettiva su alcuni scenari e mi sembra che in realtà in questo momento a Wall Street piaccia questo perché un'economia troppo forte sarebbe un problema ma un'economia troppo debole lo sarebbe altrettanto e invece questa situazione di stallo diciamo forse è la migliore che ci possiamo augurare perché da una parte non abbiamo quell'economia forse così fortissima in prospettiva da alimentare ancora l'inflazione e dall'altra non abbiamo un'economia così debole da temere un atterraggio duro non so se anche tu vedi che Wall Street ormai a questa percezione gli piace l'attuale scenario per quante problematiche nascoste possa avere sì sai che a noi piace etichettare un po' e dare dei nomi agli scenari a noi ma agli analisti finanziari in generale appassionati e Wall Street in questo momento sta scontando possiamo dirlo uno scenario di Goldilocks con pendenza al ribasso Goldilocks Economy è quello scenario in cui parafrasando la favola dei riccioli d'oro eccetera eccetera comunque come dicevi tu è uno scenario in cui l'economia non decolla ma neanche va troppo male e quindi sostanzialmente tiene bloccate le banche centrali lato tassi lo abbiamo vissuto per tanti anni prima della pandemia con una pendenza diciamo rialzista un'economia che cresceva ma non a tal punto da far alzare i tassi adesso c'è un'economia diciamo una Goldilocks Economy con una pendenza ribassista cioè l'economia non sta scendendo troppo a tal punto da spingere i mercati a scontare la recessione allo stesso tempo il lavoro sui tassi è già abbastanza fatto e quindi anche qui il mercato sconta se non un miglioramento dal punto di vista futuro dell'operato della Federal Reserve quindi un Goldilocks al contrario rispetto a quello che abbiamo vissuto ed è per questo che comunque diciamo dietro questo rialzo appunto fino a che non si romperà mi auguro di no qualcosa dal punto di vista dell'economia c'è paradossalmente un'armonia c'è un'armonia perché vedevo anche l'altro giorno a me piace analizzare i vari sottosettori che si muovono in questo momento abbiamo i tecnologici XLK come ETF rappresentativo hanno toccato il massimo storico e poi lo stanno flertando col massimo storico l'altro settore che sta flertando col massimo storico è l'industrial XLI e non a caso vuol dire che se da un lato XLK possiamo dire la bolla dell'intelligenza artificiale per cui è tutto strano eccetera eccetera se io vedo l'industrial muoversi verso il massimo storico vuol dire che il mercato ci crede davvero in questa sua scommessa perché comunque è una scommessa che scopriremo nei prossimi mesi se poi dovrà tornare indietro eccetera eccetera però ci sta credendo nel puntare tra virgolette nel ruotare i capitali verso questo scenario di atterraggio morbido di Goldilocks economy eccetera questo non significa altro capitolo che i mercati non siano esposti a una potenziale correzione visto che sono veramente belli tirati se andiamo a guardare tanti indicatori però anche qui c'è davvero tanto entusiasmo e anche tanta fomo da parte di chi era rimasto indietro che questa correzione magari molti la stanno aspettando ma non è detto che arrivi a breve questo non lo sappiamo e ovviamente poi una cosa dobbiamo dirla è che sia l'economia sia lato finanziario le difficoltà le crisi la statistica e la storia ci insegnano che seguono sempre cioè sempre nel senso se accadono accadono comunque dopo che il rialzo dei tassi è raggiunto il pivot giusto? Sì dopo c'è praticamente c'è una fase in cui il mercato di solito la pausa ha una bel backtest per quanto riguarda Wall Street di solito in media la pausa c'è il punto in cui la banca centrale ha alzato ha raggiunto il tasso terminale poi prima che inizi a tagliare questa pausa dura in media 5-6 mesi è chiaro che si tratta di medie che hanno anche dei range da un mese a 14 però in media 5-6 mesi di pausa tendenzialmente l'SMP500 ha un buon backtest un buon track record poi quando diciamo se è hard landing a quel punto il pivot coincide con una forte discesa dei mercati perché a quel punto i mercati cioè la Federal Reserve è costretta violentemente a tagliare i tassi proprio perché la situazione economica è degenerata e quindi il mercato sta scontando non il beneficio del taglio dei tassi ma l'evidente crollo degli utili fino a che non vadano a raggiungere un botton quindi ecco perché nella storia quando c'è stato l'hard landing i mercati sono scesi dopo il pivot e non prima perché si concentravano non più sui tassi ma sui danni effettivamente arrecati dalla stretta monetaria danni che poi si vedono dopo e questo è il dubbio che abbiamo adesso un altro parametro molto importante che ci da osservare perché facciamo parallelismi col passato è quello dell'inversione della curva dei rendimenti quanto dura questa inversione perché sappiamo che quando la curva poi si normalizza è lì che comincia la recessione perché a quel punto la banca centrale è preoccupata va a tagliare rapidamente i tassi e quindi la parte breve i titoli a due anni tornano a scendere e la curva si normalizza con la parte lunga dei 10 anni che tornano a essere più alti come rendimenti rispetto ai due anni in questo momento abbiamo da credo da luglio dell'anno scorso quindi siamo praticamente a un anno di inversione della curva dei rendimenti negli Stati Uniti nel 2008 la precedente grande crisi finanziaria quindi possiamo dire che più tempo i tassi sono in alto più tempo la curva è invertita più aumentano le probabilità che si facciano danni seri tra virgolette all'economia danni che vedremo chiaramente nel qual caso più in là anche questo è un parametro che sto osservando perché appunto qui siamo in uno scenario di mercati compiacenti come dicevamo prima con il scenario migliore quello del fatto che poi la recessione non arriverà o sarà davvero blanda e non impatterà più di tanto su utili che sono visti ripartire dal prossimo trimestre e però allo stesso tempo se guardiamo alcuni dati non possiamo negarlo le banche americane stanno prestando meno le disponibilità dei risparmiatori il tasso di risparmio comunque i minimi storici sono dei dati che indicano che più o meno la domanda aggregata è molto resiliente però fur di essere colpita da questo scenario macro avverso magari un domani potrà anche arrendersi tra virgolette e quindi innescare poi la recessione però i mercati in questo momento appunto come dicevo prima sanno, conoscono bene che c'è questa ipotesi che liar for longer cioè tassi alti per tanto tempo possono essere l'anticamera di un hard landing ma fin tanto che lato utili non vedono questo peggioramento non si stanno sbilanciando troppo in anticipo nello scontare uno scenario peggiore comunque una cosa interessante e vorrei veramente un commento su questo da parte tua è questo mercato obbligazionario che sembrerebbe non aver ascoltato forse da un'altra parte l'ultima riunione della Federal Reserve del FOMOC di Powell che comunque ci ha fatto intendere una prospettiva è vero che si è messo in pausa di due aumenti di 25 punti base quindi da un 5% passiamo a un 5,5% dei tassi tutti si aspettavano che l'obbligazionario ad esempio i tre soli decennali si adeguassero e invece sono rimasti fermi cioè hanno completamente ignorato questa situazione cioè come mai secondo te? il mercato non ci crede non ci crede non vuole fare il lavoro sporco che a volte le banche centrali costringono o spingono i mercati a fare perché sappiamo che la politica monetaria si fa tanto con le parole quindi a volte a una banchiera basta dare un messaggio il mercato porta i tassi sulla base di quel messaggio e poi magari la banca centrali non è neanche costretta ad alzare i tassi fino a quel punto perché lo ha fatto il mercato innescando già effetti sull'economia sui prestiti eccetera a questo giro di quel 5,6% che abbiamo visto nel documento della Federal Reserve delle proiezioni come tasso medio di arrivo a fine anno per il costo del denaro negli Stati Uniti sul mercato dei futures che si sbilanciano appunto per natura sul futuro non vi è alcuna traccia il mercato non pensa che si arriverà al 5,6% per ora e quindi è abbastanza tranquillo e in effetti proprio per questo per il mercato che continua appunto a stupire o comunque ad andare a volte contro queste dichiarazioni delle banche centrali se osserviamo i ETF o insomma gli indicatori dei tassi americani o degli strumenti obbligazionari americani a lungo periodo come per esempio il TLT che aggrega i titoli governativi dai vent'anni in poi come scadenza come duration questo questo prodotto si sta rafforzando proprio da quando la Fed ha comunicato questa cosa quindi stanno comprando gli investitori si sentono più confidenti anche nello sbilanciarsi sulle lunghe durate a questo punto proprio a conferma che non ci credono perché uno scenario chiaramente di tassi ancora più alti penalizzerebbe soprattutto gli obbligazionari con lunga duration invece lì sta crescendo vuol dire che i mercati non ci credono è appunto più che riguardare il movimento del TLT da questo punto di vista non vedo come altro modo appunto non vedo altro insomma quindi diciamo non credono nella sostenibilità di lungo termine di tassi molto alti perché ricordiamo che oltre a problemi magari di natura recessiva perché banalmente e questo è un esempio se qualcuno deve comprare una casa due anni fa la stessa data da 1000 euro adesso è 1500 euro magari rimanda non la compra manca tutto l'indotto della compravendita questo è uno dei 100.000 esempi perché un'economia con tassi alti può andare in difficoltà ma ricordiamoci anche il problema degli stati perché emettere comunque delle obbligazioni che devono garantire degli interessi più alti rispetto al passato perché ormai siamo in questo ambiente è un costo veramente oneroso con dei debiti così elevati quindi credo che molti scommettano che tutta quanta questa situazione non possa essere sostenibile a lungo e sì anche perché adesso dopo l'ampliamento del tetto al debito gli Stati Uniti dovranno tornare a mettere titoli di Stato con un'entità importante si stima 1000 miliardi in 6-9 mesi e questi 1000 miliardi insomma se li emetti a un tasso anche di 50 punti basso e più alto poi sono nel lungo termine ricchezza sottratta all'economia alla produttività e quindi sostanzialmente i mercati per ora stanno facendo comunque un regalino all'economia americana non andando ad a metterci il peso massimo sulle sulle emissioni che stanno appunto accelerando dopo l'accordo sul tetto al debito poi comunque il mercato obbligazionario ci ha stupito cioè nel senso soprattutto nelle proiezioni dei tassi fino a poco tempo fa gli stessi mercati ipotizzavano tre tagli dei tassi a fine anno adesso questo scenario è totalmente fuori dal campo e quindi anche qui si balla però quello che è abbastanza diciamo abbastanza nell'area è che più di tanto non si potrà salire e quindi il fatto che gli investitori si stanno sbilanciando sulle lunghe durate perché vogliono andare non a prendersi il 4,5-5% su tre mesi ma se lo vogliono prendere per 20 anni a quel punto vuol dire che ti senti più sicuro di fare questo passo e poi come non citare Gianluca un problema forse opposto cioè nel senso ci sono delle aree del mondo a partire dalla Cina ma anche se vediamo per esempio in Germania i prezzi alla produzione industriale che sono leading indicator poi dei prezzi al consumo che sono in deflazione quindi stiamo vivendo una fase comunque un'ondata disinflazionistica talvolta deflazionistica soprattutto sia analizzata su base mensile che anche lì diciamo produrrà i suoi effetti nei prossimi trimestri e quindi a maggior ragione non è così scontato che l'inflazione si parta con una nuova ondata il vero rischio dell'inflazione è la grid inflation cioè quell'inflazione generata dalla avidità delle imprese che fanno tra virgolette le furbette quindi vanno ad aumentare troppo i prezzi finché i consumatori reggono e a quel punto questo però può trasformarsi in una spirale salariale e quindi andare veramente a creare un'inflazione più appiccicosa quindi il vero tema è la grid inflation che però contrasta con delle tendenze disinflazionistiche quando non deflazionistiche globali a partire dalla Cina altrettanto molto forti poi c'è anche il tema dell'intelligenza artificiale che qualora appunto prenderà piede velocemente comunque nell'industria anche essa possiamo dirlo che tutte forse una cosa inflazionistica anzi è abbastanza deflazionistica come struttura di tecnologie insomma bene bene sì bisogna ragionare molto su quello che accade in Cina perché poi è chiaro che ha un'influenza a livello globale con tutte quante le imprese che importano che richiedono che commerciano con la Cina è fondamentale senti io prima di salutarci voglio un attimo condividere lo schermo e volevo far vedere questo tuo articolo così magari me lo commenti ovviamente ricordiamo che tu hai un canale youtube perché ti avesse scoperto oggi Vito Lops su youtube e ovviamente parla di queste tematiche però sei ovviamente un giornalista del sole 24 ore prima che un youtuber e questo è uno dei tuoi ultimi articoli e qui vado a leggere wall street il premio a rischio non esiste più la borsa ora rende come i bond la formula che calcoli il rendimento atteso delle azioni quotate a wall street restituisce un valore del 5,3% lo stesso tasso offerto dalla liquidità e dai bond societari a basso rischio mi commenti un attimo questa cosa prima di salutarci ce la spieghi sì questo è diciamo un calcolo che fa capire che comunque le borse in questo momento sono molto tirate nel loro allungo realzista ottimistico perché se andiamo a guardare un dato che gli earnings yield cioè il rendimento di wall street che si ricava osservando gli utili attesi ed è praticamente l'inverso del price earning cioè noi siamo abituati a guardare la borse per il prezzo utile quindi quelle borse valgono 18-20 volte utili vuol dire che ci vogliono 18-20 anni per ripagarsi il capitale con gli utili che in quel momento quando si investe stanno generando le aziende se invertiamo il parametro quindi il prezzo dal numeratore va al denominatore e gli utili dal denominatore vanno al numeratore otteniamo ovviamente poi moltiplicato per 100 una percentuale che viene chiamata earnings yield ed è il rendimento sostanzialmente di questi utili in rapporto al prezzo appunto di mercato se guardiamo quello prospettico a 12 mesi questo calcolo ci dà un 5,3% che è lo stesso rendimento che offre oggi la liquidità negli Stati Uniti cioè un titolo di Stato a 3 mesi quindi molto liquido o anche i bond societari a basso rischio che hanno un rating superiore alla tripla B e quindi vengono chiamati investment grade quindi però la cosa strana qual è? che sappiamo che il mercato azionario per quanto nel lungo periodo nelle economie vincenti ha generato rendimenti molto importanti in Wall Street il 9% il 10% l'anno eccetera eccetera comunque per definizione è più rischioso sul capitale per quanto riguarda rispetto a un mercato obbligazionario soprattutto AAA degli Stati Uniti un titolo di debito emesso dal governo americano e quindi è normale aspettarsi che questo earnings yield del Wall Street sia più alto del rendimento delle obbligazioni perché questa differenza si chiama premio al rischio cioè giustifica il fatto che un investitore debba sposare una scelta cioè l'azionario piuttosto che un'altra cioè l'obbligazionario perché l'azionario è più rischioso ma ti dà un premio per questo rischio in questo momento se guardiamo questa formula e la rapportiamo ai rendimenti che sono eccezionalmente alti perché comunque la Fed non ha ancora tagliato i tassi abbiamo un aggancio cioè praticamente investire a Wall Street offre una prospettiva di rendimento lato utili identica rispetto a quella di un'obbligazione senza rischio e quindi questa è un po' un'anomalia perché vuol dire che insomma un investitore un po' diciamo razionale tra virgolette tenderebbe a privilegiare l'obbligazionario perché Wall Street a questi livelli il mercato ci sta dicendo che è abbastanza cara tanto che addirittura ha cancellato quel premio al rischio che giustificherebbe un investimento rispetto al bond possiamo anche vedere questo meccanismo come la fine definitiva del TINA abbiamo parlato per tanti anni del terismo alternative all'azionario invece adesso l'alternativa all'azionario non solo c'è ma addirittura ha lo stesso rendimento del mercato azionario e quindi questo è una delle anomalie che ti dicevo prima a proposto del fatto che il mercato è molto compiacente sul soft lending però è arrivato anche a tirare troppo questa volata e quindi è un segnale di potenziale correzione se non altro per riportare un po' le valutazioni anche intermarket tra obbligazioni e azioni su un equilibrio cioè arriva anche sana cioè sarebbe quasi da curarsi una correzione eh sì perché è un mercato in cui non c'è premio al rischio sull'azionario cioè obiettivamente non è proprio il miglior mercato in quel momento dove dove inserire i propri capitali da blè è vero come tecnicamente come tecnicamente insomma sì perché come dicevi te prima non c'era alternativa e allora tutti andavamo a giustificare il fatto che si investisse nel mercato azionario oggi l'alternativa c'è eppure l'SMP500 continua a mostrare i muscoli quindi siamo tutti quanti un po' un po' interdetti quindi praticamente ne epilogando abbiamo in questo momento un mercato azionario che se vuole continuare a salire dovrà comunque fare il conto con tre ostacoli la liquidità delle banche centrali vista comunque ancora in calo appunto abbiamo fatto al sole 24 ore un calcolo intorno ai 1500 miliardi nei prossimi mesi l'altro l'altro ostacolo è la competizione delle obbligazioni che hanno un rendimento identico quindi non c'è premio al rischio in questo momento nel sbilanciarsi sull'azionario e il terzo ostacolo riguarda comunque uno scenario macro che non possiamo dire del tutto al riparo da una recessione per quanto magari è spostata nel tempo quindi queste sono le tre grandi incognite che a mio avviso in questo momento potrebbero pensare su un ulteriore allungo del mercato azionario però se guardiamo aiutili e appunto il mercato magari focalizzato un po' più nel breve tutto può comunque succedere quindi riassumendo possiamo dire che siamo pieni di sfide ma la situazione appare sotto controllo sì sotto controllo anche se visto che le assicurazioni in questo momento come le opzioni put sul mercato costano pochissimo visto che la volatilità è molto bassa e quindi è uno degli elementi del costo delle opzioni un VIX a 13,8 punti lo riprova magari gli investitori professionali o quelli un po' più addentrati potrebbero valutare anche l'ipotesi di coprirsi visto che comunque il costo è molto basso in modo tale da eventualmente affrontare meglio una fase un po' più avversa che appunto potrebbe sempre comunque verificarsi e beh sì anche perché poi le coperture sia dal punto di vista tecnico che anche di costo bisogna assumerle quando vi è la quiete prima che scoppi la tempesta perché dopo non ha alcun senso quindi insomma che professionisti facciano il loro lavoro come sempre non ci annoieremo mai nei prossimi mesi e torneremo qui se ti va sul tubo a raccontare e a commentare novità che non mancheranno assolutamente ci aggiorneremo perché i mercati ci daranno sempre voce in capitolo grazie per la tua presenza per aver condiviso insomma tutte quante le tue idee i tuoi racconti sui mercati io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima e saluto anche tutti quanti gli amici qui che ci hanno ascoltato fino alla fine a presto e ciao ciao